E' alto, alla volta, block number 1, block number 2, for spreading, block number 3, for Chameko, e block number 4, for let's finish the trial, Anthony Gooster. Alleya, sale, 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 lungo e flessibile, come sempre, ma ormai ci ha vituato, e adesso è qui davanti a noi per questo mondiale d'Arco 2011. Alleya!